Siete architetti nell'antico Egitto e dovete cercare di costruire obelischi, piramidi, tombe per compiacere il faraone, ma attenzione perché ci sono tanti altri architetti come voi che stanno cercando di fare la stessa cosa e che cercheranno in ogni modo soprattutto di mettervi i bastoni fra le ruote. Riuscirete a vincere questa sfida? Ciao a tutti e benvenuti nel canale video della Maschera Riposta. Io mi chiamo Mosè e in questo video vi voglio parlare di un gioco da tavolo. Imhotep, architetto dell'antico Egitto di Phil Walker Harding, un gioco edito in italiano da Giochi Uniti di cui vedrete l'edizione in questo video. Imhotep è un gioco molto semplice, è un family game basato sul meccanismo del, potremmo dire, delle maggioranze dell'area control, del set collection, ci sono vari meccanismi inseriti al suo interno. Questo è un esempio di gioco, quindi in questo video vedrete come funziona questo gioco, vi mostreremo una sfida a due. Però sappiate che abbiamo un altro video qui sul canale in cui vi diciamo invece il nostro parere e abbiamo anche una recensione molto dettagliata sul sito lamascherariposta.it che vi invitiamo ad andare a vedere. Trovate tutti questi link in descrizione. Ma ora signori, bando alle ciance, bando agli indugi, abbassiamolo sguardo sul tavolo e scopriamo insieme come funziona Imhotep. Signore e signori, ladies and gentlemen, ecco a voi Imhotep! Ma come sempre, prima di entrare nel vivo vi devo presentare i due contendenti. Vedete, abbiamo il giocatore bianco e abbiamo il giocatore nero. E questa volta ho scelto due minifig collezionabili. A rappresentare il giocatore bianco, guardate, siamo nell'antico Egitto, abbiamo un personaggio perfetto dal punto di vista dell'ambientazione. Guardate, questa si chiama semplicemente la Mammi ed è una minifig collezionabile della serie 3, quindi piuttosto vetusta del 2011. Siamo a dieci anni fa, nel momento almeno in cui stiamo girando questo video. Vedete, è una minifig molto semplice, come unico accessorio ha questo bello scorpione, vedete, in rosso scuro. E vedete, ha le bende, no? Sembra avere tipo una carnagione verde che si intravede sotto le bende, ha questi occhi gialli. E vedete, è stampata anche sulle braccia, sui lati delle gambe e anche dietro il busto. Per il resto, vedete, non ha particolari altri elementi di rilievo da sottolineare. Le minifig collezionabili appartenenti alle prime serie erano abbastanza semplici, possono diventare sempre più complesse man mano che si prosegue. E a tal proposito, guardate, il giocatore nero, ecco, visto che con la mummia siamo un po' in tema horror, diciamo, abbiamo scelto per rappresentare il giocatore nero, un personaggio invece della serie, se non ricordo male, 13 o 14. Guardate, questo qui è, vedete, c'è stata tutta una serie di minifig collezionabili, siamo nel 2016 forse, o 17, tutta ruotante attorno a personaggi mostruosi, perché è uscita in concomitanza con Halloween. E guardate, questo non è un vero e proprio scheletro, vedete, esistono gli scheletri Lego, ma questo non è uno scheletro, è un omino travestito da scheletro, perché vedete, ha una maschera con tanto di filo allacciato, vedete, dietro, dietro la testa, va bene? Quindi ha anche, vedete, il cestino, per ovviamente chiedere i dolcetti, a forma di zucca, guardate, no? Tipo un secchio a forma di zucca, è veramente, è veramente una bella idea, no? Ma in generale, vedete, è una minifig, anche questa molto semplice, no? Ha le mani e vedete i fianchi bianchi, il resto è nero, con delle stampe che tra l'altro sono del tutto simili, ricordano moltissimo proprio come è fatto il vero scheletro Lego, cioè il vero scheletro Lego è fatto con dei pezzi di plastica che hanno queste forme, vedete, anche sul lato delle gambe e delle braccia, quindi non è vestito semplicemente da scheletro questo omino Lego, ovviamente è vestito da scheletro Lego, nulla viene lasciato al caso, no? Bene signori, quindi questa epica sfida a Imhotep sarà la mummia, che ho messo fuori campo, non va bene, la mummia e l'omino vestito da scheletro, ecco, potremmo chiamarlo, potremmo chiamarlo in questo modo. Allora signori, come si gioca Imhotep? Questo è un gioco molto semplice, ma non per questo privo di un certo spessore strategico e tattico e non per questo soprattutto privo di una notevole interazione anche piuttosto cattiva fra giocatori. Allora, ad ogni turno intanto il gioco si svolge in sei round e noi qui cercheremo di fare una partita completa, perché in genere non è un gioco particolarmente lungo, quindi vediamo se riusciamo a fare una partita completa. Si svolge in sei round e vedete, il contaround sono queste carte, ok? In realtà ce ne sono sette per ogni numero di giocatori, quindi qui sono le sette, vedete, per due giocatori, le riconoscete dalle faccine qui sotto. Quindi all'inizio di una partita a due giocatori va mischiato questo mazzetto e poi ne va tolta una senza guardarla, va bene? Quindi ne togliamo una, la mettiamo fuori campo. Ecco, queste sono le sei carte che, diciamo, scandiranno il tempo, no? In questa partita determineranno appunto la durata della partita. Quindi le posizioniamo qui. Ognuna di queste, di queste carte, beh, possiamo tranquillamente scoprire la prima, no? La prima sarà quella che ci accompagnerà nel corso del primo round. Ognuna di queste carte, vedete, specifica un certo numero e tipo di barche. Vedete che là sopra abbiamo questa flotta di barche, no? Quindi nel primo round di gioco quelle sono le barche che avremo a disposizione. Quindi a questo punto dobbiamo, vedete, abbiamo una barca da quattro, da quattro caselle. Quindi la metteremo, diciamo, qui, no? Potremmo fare, potremmo fare così, la mettiamo, le barche disponibili, diciamo, le mettiamo, le mettiamo in questa zona. Poi ne abbiamo, vedete, una da tre. Quindi ne prendiamo una da tre. Poi ne abbiamo una da due. E infine ne abbiamo una da uno. Molto bene. Quindi questa è la flotta di barche, diciamo, che abbiamo a disposizione nel nostro primo round di gioco. A questo punto i giocatori giocano a turno e nel loro turno possono fare una delle seguenti quattro azioni. Possono, allora, prendere tre blocchi di pietra dalla propria cava, vedete queste sono le pietre del giocatore bianco, queste sono le pietre del giocatore nero, e metterle sulla propria slitta. Vedete? Questa specie di tassello. Questa specie di tassello che ha cinque posti, vedete, ve lo faccio vedere un po' più da vicino, ha cinque posti. Non si possono mai avere nella propria, diciamo, riserva di pietre utilizzabili più di cinque pietre. Quindi se per esempio se ne hanno tre e si decide di prendere pietre, se ne possono prendere solamente due. Va bene? Quindi questa si parte con una certa quantità di pietre nella propria slitta. Dopo sistemeremo meglio questa cosa. Quindi questa è una delle possibili quattro azioni. Prendere pietre e sistemarle nella slitta. Seconda possibile azione. Prendere una pietra dalla propria slitta e posizionarla su una delle barche. Va bene? Quando si posizionano le pietre sulle barche, si parte sempre dalla prua. E le pietre successive vengono messe nelle caselle, diciamo, successive. Quindi si parte da destra, diciamo, e ci si muove verso sinistra. Ok? Questa è una delle... questa è la seconda, appunto, delle quattro azioni disponibili. Terza azione disponibile. Si prende una barca e la si conduce a destinazione. Però attenzione, per poter fare questa azione, sulla barca deve esserci una minima quantità di pietre che è indicata sulla prua, vedete, della barca stessa. Quindi, per esempio, per muovere questa barca, che può contenere quattro pietre, sopra ci devono essere almeno tre pietre. Altrimenti la barca non può essere mossa. Invece, vedete, questa barca che ha tre posti deve avere almeno due pietre a bordo per poter essere mossa. Va bene? Questa che ne ha due, basta che ce ne sia una. E questa che ha una casella, deve essere ce ne fina, d'accordo? Attenzione, il giocatore può muovere qualunque barca, a patto che la barca soddisfi i requisiti per poter essere mossa. Quindi può muovere anche una barca dove non c'è nessuna delle sue pietre. E questo è un punto fondamentale, perché muovendo la barca e portandola a destinazione, noi attiviamo la relativa location. Vedete? Qui avete il mercato, qui avete il tempio, qui avete gli obelischi, qui avete la tomba, qui avete la piramide, d'accordo? Allora, quattro di queste location, tempio, obelischi, tombe, piramide, sono monumenti che stiamo cercando di costruire, no? Siamo architetti nell'antico Egitto, va bene? Mentre il mercato è un luogo in cui possiamo scambiare le nostre pietre per carte, no? Le carte di quel mazzo che ci permettono di effettuare azioni di vario tipo o di avere bonus di vario tipo. Vedete se ne devono scoprire quattro all'inizio di ogni round, anzi facciamolo per il primo round, così spieghiamo un po' anche cosa significano le carte. scoperte. Per esempio, guardate questa qui, questa decorazione tomba, ci dice alla fine della partita otteniamo un punto per ogni tre pietre, tu o di altri giocatori nella tomba. Quindi questa ci fa ottenere, per esempio, punti in più a fine partita, va bene? Vediamo qual è la prossima. Oh, questa è una statua, questo è un set collection, va bene? Bisogna cercare di collezionarne il maggior numero possibile per avere questi punti bonus a fine partita, ok? Vediamo cos'altro. Esce un'altra statua, molto bene, quindi l'uso del mercato può essere interessante in questo round. E vediamo un'altra statua, guardate. Beh, tre statue, no? Questo è interessante. Quindi, allora, siamo arrivati a tre delle quattro azioni possibili, no? Ricapitoliamo. Prendere pietre dalla cava, mettere una pietra su una barca, spostare una barca in una location, ok? Quando si sposta una barca in una location si fa scattare, diciamo, l'uso di quella location, e tra un attimo vedremo come. Però c'è un'altra azione, l'altra azione è utilizzare una carta a mercato rossa. Adesso non è uscita neanche una, ma eccola qua, guardate, l'ultima carta del mazzo. Le carte rosse presentano delle azioni, vedete? Piazza una pietra dalla cava negli obelischi, d'accordo? Questa però vale come un'azione, no? Che facciamo, vediamo se trovo altre, questa qui è uguale. Entrata. Piazza una pietra dalla cava nella piramide. Quindi queste contano come un'azione, d'accordo? Quindi è un'azione che possiamo fare al posto, appunto, di una delle tre di cui abbiamo appena parlato, va bene? Quindi queste sono le quattro azioni possibili. Ma adesso vediamo cosa succede quando conduciamo una barca, appunto, in uno dei determinati luoghi. Allora, quando conduciamo la barca al mercato succede semplicemente che, appunto, scambiamo le nostre pietre per le carte presenti, le carte scoperte presenti al mercato, va bene? E quando una barca viene condotta in un luogo e quindi scatta l'azione di quel luogo, le pietre vanno sempre prelevate a partire dalla prua, d'accordo? Quindi prima si preleva questa pietra e il giocatore a cui appartiene questa pietra la scarterà, la metterà nella sua cava e si prenderà una di quelle carte. Poi si passerà la pietra in questa posizione e il giocatore a cui appartiene questa pietra, appunto, di nuovo la metterà nella propria cava e prenderà una di quelle carte e così via, d'accordo? Nel tempio, vedete, le pietre vengono disposte su questa specie di tracciato che in una partita a due giocatori ha solamente quattro caselle, mentre in tre o quattro giocatori ha anche una quinta casella, d'accordo? E anche in questo caso le pietre vanno disposte, diciamo, in una certa, seguendo l'ordine che hanno sulla barca, quindi a partire dalla prua, d'accordo? E partendo, vedete, da sinistra verso destra, ok? Il tempio viene, i punti relativi al tempio vengono assegnati alla fine di ogni round, d'accordo? Alla fine di ogni round ogni giocatore ottiene un punto per ogni pietra disposta più in alto, perché quando sono finite queste quattro caselle che abbiamo a disposizione, ricominciamo a mettere le pietre sopra quelle già presenti, no? La cosa importante nel tempio è avere le pietre più in alto possibile, perché sono le pietre in alto quelle che ci daranno punti a fine round. Se la barca arriva negli obelischi, vedete, ogni giocatore costruisce il suo obelisco, no? Impilando le pietre del suo colore nell'apposito slot, d'accordo? I punti per gli obelischi vengono assegnati alla fine della partita. Vedete, in una partita a due giocatori, chi ha l'obelisco più alto fa dieci punti, chi ha il secondo obelisco fa solo un punto, quindi c'è una bella differenza, ok? Nella tomba, attenzione, le pietre vanno disposte, vedete, su questo schema, sempre partendo dalla prima colonna a sinistra e partendo dall'alto, va bene? Anche questi punti vengono assegnati alla fine della partita. In questo caso, però, quello che cerchiamo di fare, quello che stiamo cercando di fare nella tomba è raggruppare assieme più pietre possibili del nostro colore, va bene? Perché a seconda di quante pietre avremo raggruppato assieme, otterremo punti a fine partita, d'accordo? Non sono considerate adiacenti le pietre che si toccano solo in un angolo, devono essere, devono toccarsi per un intero lato, ok? La piramide, la piramide ci permette di costruire, appunto, una piramide, no? Quindi partendo, vedete, anche qua bisogna seguire questo ordine, quindi si parte a sinistra e si mettono le pietre, vedete, dall'alto verso il basso, d'accordo? Una volta finito il primo livello si passa al secondo piano, una volta finito il secondo piano si passa al terzo piano, quindi si costruisce davvero una piramide, no? Perché i piani diventano progressivamente più piccoli e i punti segnati sulla casella dove posizioniamo la nostra pietra vengono assegnati immediatamente, d'accordo? Quindi, riassumendo, per la piramide i punti vengono assegnati immediatamente, per il tempio vengono assegnati alla fine del round, per gli obelischi e la tomba vengono assegnati alla fine della partita, d'accordo? E qui abbiamo, vedete, il nostro segnapunti, dove abbiamo già sistemato, vedete, nello zero un cubo bianco e un cubo nero, anzi spostiamolo un po' più in giù, se no non si vede, ok? Quindi questo, signori, è il modo in cui funziona il gioco, beh, dobbiamo ancora dire quando finisce il round, il round finisce immediatamente quando l'ultima barca viene portata a destinazione, l'ultima delle quattro barche viene portata a destinazione, va bene? A quel punto si rinnova il mercato e il primo giocatore nel round successivo sarà l'altro, cioè quello che non ha portato, diciamo, la barca a destinazione. E si gioca in questo modo per sei round e alla fine appunto si calcolano i punti degli obelischi e della tomba, va bene? E chi ha più punti naturalmente è il vincitore, d'accordo? Quindi, signori, questo è il modo in cui funziona Imhotep e adesso siamo pronti per cominciare la nostra sfida e abbiamo deciso che a cominciare sarà la mummia, quindi sotto con la partita. Bene, signori, allora il primo giocatore che abbiamo detto essere appunto la mummia, inizia con due pietre già sulla sua slitta, mentre il secondo giocatore inizia con tre, va bene? Se stessimo giocando in tre o quattro giocatori, il terzo inizierebbe con quattro e il quarto inizierebbe con cinque, ok? Quindi, cosa vuole fare come sua prima mossa la mummia? Allora, vedete, bisogna stare molto attenti in questo gioco, perché se la mummia adesso mette una delle sue pietre su una delle barche più piccole, ok? Poi, quando sarà il turno dello scheletro, dell'omino travestito da scheletro, sarà un po' un problema per la mummia, perché l'omino travestito da scheletro potrebbe prendere la barca dove c'è la pietra della mummia e metterla dove vuole lui, no? Perché queste barche possono essere spostate dopo che hanno semplicemente una pietra, no? Su di esse, ok? E non è possibile nello stesso tempo per la mummia mettere la pietra e anche spostare la barca, perché sono due azioni distinte, va bene? Quindi decide di andarci più cauta, no? La mummia e decide di mettere la sua prima pietra qui, sulla barca più grande, va bene? Quindi questa è la prima azione della mummia. Signori, tocca all'omino travestito da scheletro. Cosa fa l'omino travestito da scheletro? A questo punto l'omino travestito da scheletro potrebbe, sapete cosa potrebbe fare? Potrebbe mettere la sua prima pietra anche lui su questa barca, tanto comunque non può essere mossa, vedete? Adesso ha di nuovo messo in difficoltà la mummia, no? Perché se la mummia mette la sua ultima pietra qua, dopo l'omino travestito da scheletro potrà muovere quella barca, d'accordo? Quindi la mummia farà così, metterà questa pietra su quest'altra barca. Vedete? Bisogna, no? Cioè è difficile, diciamo, poter decidere che fine fanno le proprie pietre. Spesso è più il destino, no? Decidere che fine fanno, non tanto la propria strategia, però il destino va indirizzato, no? Per così dire. Tocca all'omino travestito da scheletro. Dove metterà questa pietra? Allora, beh, a parte che lui potrà... No, non può muovere le barche, neanche lui. Allora, vediamo un po', vediamo un po', vediamo... Ma sapete cosa farà l'omino travestito da scheletro? Metterà la sua pietra qui. Perché comunque, vediamo, adesso cosa decide di fare la mummia? La mummia potrebbe muovere quella barca, eh? Portarla da qualche parte. Però capite che se la porta al tempio avvantaggia lui, se la porta agli obelischi avvantaggia lui, se la porta alla tomba... È un po' complicato, no? Perché comunque anche qua, vedete, anche alla piramide non è tanto una bella idea, no? Portarla là. Quindi potrebbe un po' disinnescarla, in un certo senso, mandandola al mercato. Vediamo un po'. Oppure potrebbe... Perché, attenzione, una volta che una barca è arrivata in un certo luogo, poi in quel luogo, in quel round, non ci si può più andare, no? Quindi, per esempio, andare al tempio sarebbe una pessima idea, no? Perché darebbe già più punti al suo avversario. Andare agli obelischi. Vabbè, gli obelischi sono una roba, no? Che si conta solo a fine partita, quindi in un certo senso per quelli la partita è aperta, no? Quindi forse potrebbe mandarli agli obelischi. Oppure potrebbe... No, no. Decidiamo di andare, scusate, sposto i segnapunti, la mummia decide come sua azione di spostare questa barca al mercato. Pabam! Quindi a questo punto viene attivato il mercato. E funziona così. La prima carta la sceglie la mummia, va bene? Perché la mummia ha la pietra, vedete, più vicina alla prua. Quindi sistemiamo questa pietra nella cava e la mummia deve scegliere una di queste carte. E forse la mummia, sapete che tenta di, visto che ci sono tutte queste statue, però d'altro canto, vabbè, tenta di prendersi una statua? Ma sì, si prende una statua e la mettiamo qui, diciamo, di fianco alla sua slitta. Ok? Allora, non credo adesso che il mercato debba essere immediatamente, diciamo, refilled, immediatamente arricchito di carte. Penso si faccia solo alla fine del round, però per sicurezza guardo nel regolamento. Va bene? bene. Allora, è importante. Le carte sono giocate una volta? No, qui non dice niente nel funzionamento del mercato. Dice semplicemente che il mercato va, vediamo un po', fine del round. Ok? No, 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 il mercato viene rinnovato solamente alla fine del round, non dobbiamo preoccuparcene. Adesso l'umino travestito da scheletro deve prendere due di queste carte e decide anche lui, forse, di buttarsi sulle statue. Quindi prende questa e prende questa. Molto bene. L'umino travestito da scheletro, signori, ha già due statue. Queste faranno dei bei punti a fine partita. Molto bene. E adesso, tra l'altro, tocca a lui, perché questa è stata l'azione della mummia, muovere la barca. Quindi adesso, signori, tocca all'umino travestito da scheletro. Cosa vuole fare l'umino travestito da scheletro? Vediamo un po'. Dovunque metta la pietra dà la possibilità alla mummia di scegliere. Quindi è un po' complicata la faccenda. D'altro canto, non so se la mummia ha interesse a spostare una barca dove c'è solamente una pietra. Quindi forse non la sposta, in realtà. Ma sì, l'umino travestito da scheletro farà così. Metterà la sua pietra qui, su questa barca, sulla barca più piccola. A questo punto tocca la mummia. La mummia potrebbe muovere questa barca e portarla a destinazione. Mumble, mumble, mumble. Però così facendo regalerebbe un po' di punti, no? D'altro canto, nel turno successivo lui potrebbe solo prendersi pietre, ma anche lei nel turno successivo potrebbe solo prendersi pietre. Sapete che non è così semplice decidere cosa fare a questo punto? Vediamo un po'. Forse... ma no, ma no. Sceglie una strategia attendista la nostra cara mummia, e cioè si prende tre pietre dalla cava. Sapete, questa è un'altra delle azioni possibili, no? Molto bene. A questo punto tocca di nuovo all'umino vestito da scheletro e, signori, a questo punto deve per forza muovere la barca, deve decidere, no? Dove andare con questa barca. Beh, andando al tempio si prende un punto, quindi forse io farei così. Il l'umino travestito da scheletro va al tempio, questa pietra viene messa qui e questo gli garantirà un punto alla fine di questo round, perché a questo punto al tempio non si può più andare, no? Molto bene, tocca di nuovo alla mummia. E la mummia è un po' indecisa sul da farsi, è un po' indecisa, perché se mette una delle sue pietre qua, poi praticamente l'umino travestito da scheletro può muovere quella barca, no? Nel suo turno. Vabbè che dovunque vada, dovunque vada è un successo in un certo senso, quindi sì, la mummia farà così, metterà la sua pietra qui. A questo punto l'umino travestito da scheletro potrebbe muovere quella barca, va bene? Ma decide di non farlo, decide di prendere tre pietre e di mettersene nella sua slitta, ok? Quindi a questo punto tocca di nuovo alla mummia, va bene? Sapete che a questo punto la mummia potrebbe addirittura a mettere una terza pietra là? Perché tanto dovunque vada, no? E otterrebbe un sacco di punti. Ma sì ragazzi, fa così, fa così, mette una terza pietra qua. Tocca di nuovo all'umino travestito da scheletro e per quanto gli... vabbè, non so, non so se sto usando strategie sensate, mi raccomando, non guardate questo canale per imparare strategie ultra mega raffinate, guardate questo canale per essere intrattenuti e per scoprire come i giochi funzionano e se possono fare al caso vostro. Allora il luminoso travestito da scheletro farà così, metterà una sua pietra su questa barca. Tocca alla mummia che deve decidere cosa fare con quelle sue tre bellissime pietre. Allora sulla piramide prenderebbe subito sei punti ragazzi, quindi è troppo appetibile. Quindi la mummia farà così, porterà questa barca sulla piramide. Guardate, due punti, un punto, tre punti, per un totale di sei punti ottenuti immediatamente. Pam! Ok? Quindi ha fatto un bel balzo in avanti a questo punto la mummia. Molto bene. E a questo punto tocca di nuovo all'umino. Allora l'umino travestito da scheletro potrebbe anche mettere un'altra pietra. Poi sarà lei eventualmente a portarla a destinazione. Se la porta agli obelischi o se la porta alla tomba è sempre meglio comunque averne una in più sopra, no? Quindi sì, l'umino travestito da scheletro farà così. Metterà un'altra sua pietra su questa barca. Adesso tocca alla mummia, ma sapete che la mummia potrebbe anche tranquillamente, diciamo, fregarsene di mandare a destinazione quella barca e prendersi invece tre pietre dalla cava. Prepararsi meglio per il round successivo. Molto bene. Quindi adesso è l'umino travestito da scheletro a dover scegliere dove mandare questa barca. E forse, sapete che la manderà sulla tomba, forse? No, la manda agli obelischi invece. La manda agli obelischi. Quindi a questo punto questo blocco va qui e questo blocco va qui. A fine partita, signori, è già a buon punto nella costruzione del suo primo obelisco, l'umino travestito da scheletro. Molto bene, è finito il primo round, signori. A questo punto dobbiamo fare questo. Dobbiamo rimettere le barche in alto, d'accordo? Quindi così. Dobbiamo ottenere i punti relativi al tempio che si assegnano alla fine di ogni round e l'umino travestito da scheletro ottiene un punto. Molto bene, quindi questa è la situazione. Poi dobbiamo scartare eventuali carte presenti nel mercato e metterne di nuove. Quindi vediamo cosa esce. Un'altra statua. Interessante. Un'altra statua, ma è pazzesco, sono tutte all'inizio? Come si spiega sta roba? Un'altra statua, guardate. Vi giuro che ho mischiato quel mazzo. Ho una leva. Allora, azione del turno. Conduci una barca in un luogo e scegli tu l'ordine di scaricamento delle pietre. Ma forse allora sono le carte blu. Aspetta che prima forse ho detto un'idiozia? Aspettate un attimo, guardo un attimo a rivedere il regolamento. Prima ho detto che sono le carte rosse, no? Quelle, quelle, quelle... Vediamo un po'. Ah no, ho sbagliato infatti. No, 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 scusate. Prima ho detto che sono le carte rosse a essere, diciamo, l'azione sostitutiva del turno. Non è così. Sono le carte blu a essere l'azione sostitutiva del turno. D'accordo? Quindi le carte rosse si fanno in aggiunta all'azione del proprio turno, mentre le carte blu vanno messe nella propria riserva e vanno usate in alternativa alle azioni, alle azioni che si svolgono in quel turno. Bene, adesso, signori, dobbiamo scoprire la seconda carta di questa piccola pila e vedere quali saranno le barche a disposizione nel secondo round. E sono queste, vedete? Quindi una barca da tre, un'altra barca da tre e due barche da due. Va bene? Questo è l'assortimento di barche che abbiamo a disposizione in questo secondo round. E, signori, tocca alla mummia cominciare. Quindi la mummia metterà subito una sua bella pietra qui, su questa barca. Tocca adesso all'omino travestito da scheletro, che è solamente una sua pietra sulla sua slitta, ma vabbè, decide di usare, di metterla qua. Però così farebbe scegliere di nuovo alla mummia. Tocca alla mummia. Allora, cosa vuole fare a questo punto la mummia con quella barca lì? Vediamo un po' com'è la leva. Azione del turno. Conduci una barca in un luogo e scegli tu l'ordine di scaricamento delle pietre. Mmm, boh, non è così. Non è così interessante. Ma no, la mummia decide invece di metterne un'altra di pietra qua. Va bene? Allora, a questo punto vediamo cosa vuole fare l'omino travestito da scheletro, perché potrebbe portare quella barca a destinazione. Portando quella barca a destinazione, vediamo un po'. Bene, il tempio poi si assegnerebbero due punti a testa. Mmm, negli obelischi. Spero che forse portare negli obelischi non è una così cattiva idea. Decide di fare così l'omino travestito da scheletro. La porta agli obelischi. Così. Quindi questo viene posizionato qui, questo viene posizionato qui, questo viene posizionato qui. Signori, è ancora comunque in vantaggio? Lui, no? Il giocatore nero. Quindi sì. La situazione è ancora quella che era prima, no? Alla fine, anche se adesso il bianco ha comunque dei suoi, dei suoi, no? Delle sue pietre sugli obelischi. Bene, signori, tocca alla mummia. Cosa vuole fare la mummia? Allora, vediamo un po'. Vuole mettere una pietra su questa barca. Adesso tocca di nuovo all'omino travestito da scheletro e la sua unica opzione è mettere tre pietre sulla sua slitta, ed è quello che farà. A questo punto tocca alla mummia che ha ancora una pietra nella sua slitta. Mmm, beh, a questo punto la metterà qui. Vediamo un po'. Ha senso adesso per l'omino travestito da scheletro muovere quella barca e farla andare da qualche parte? Mmm, no. L'omino travestito da scheletro preferisce farsi gli affari suoi. Però sapete che se va qui fa troppi punti, eh? No. Allora, non vuole l'omino travestito da scheletro. Ha già preso una bella mazzata in fatto di punti dalla piramide nel turno, nel round precedente. Quindi prende questa carta e la manda... dove la mandiamo? Alla tomba. La manda alla tomba, così ci preoccupiamo eventualmente a fine partita. Quindi queste due pietre bianche finiscono lì. Molto bene, adesso tocca alla mummia che ha come unica possibilità quella di prendere tre pietre dalla sua cava. Molto bene, e mettele sulla sua slitta. Tocca all'omino travestito da scheletro. Abbiamo queste due barche a disposizione. Beh, direi che farà così, no? Metterà la sua pietra su questa barca. Adesso la mummia, volendo, potrebbe muovere quella barca e mandarla da qualche parte. Vediamo un po'. No, decide di mettere un'altra sua pietra, non su quella barca, ma su questa. Adesso l'omino travestito da scheletro, se non vuole che la mummia vada di nuovo sulla piramide, deve prendere la barca della mummia e mandarla da un'altra parte. Altrimenti poi la mummia, eh, se ne va sicuramente alla piramide. E l'omino travestito da scheletro farà così, guardate, manderà questa barca al mercato. Quindi a questo punto la mummia può scegliere una di queste carte e sceglierà una statua, va bene, da aggiungere alla sua collezione di statue. Molto bene, adesso tocca all'omino travestito da scheletro che decide di... Beh, potrebbe muovere questa barca, ma potrebbe anche metterci sopra un'altra pietra, eh. Mettendoci sopra un'altra... Sapete che forse la cosa migliore è metterci sopra un'altra pietra. Sì, 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 perché così comunque sul tempio... Allora, ci mette sopra un'altra pietra. Adesso alla mummia conviene assolutamente muovere questa nel tempio, perché se la lascia lì, poi il domino travestito da scheletro la muoverà nella piramide e farà sei punti, va bene. Quindi la mummia prende questa barca e la porta qui. E a questo punto questa è la situazione che si verifica. Una pietra va qui e una pietra va qui. Signori, è finito anche il secondo round e toccherà l'omino travestito da scheletro cominciare il round successivo. Quindi sbrighiamo le faccende di fine round, rimettiamo le barche al loro posto, qua in alto, controlliamo il tempio, no? Che va controllato alla fine di ogni round. Vedete? Tre punti per l'omino travestito da scheletro. Uno, due, tre. Che ha un po' rimontato, quindi, no? Buono. Queste carte vanno tutte scartate e le mettiamo qui e ne scopriamo di nuove. Allora abbiamo una decorazione piramide. Alla fine della partita un punto ogni tre pietre, tu o di altri giocatori, nella piramide. Beh, 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 alla mummia potrebbe interessare questa, perché ha già tre pietre sulla piramide. Vediamo un po'. Sarcofago immediatamente passa una pietra dalla cava nella tomba. Beh, questa è molto bella. Vediamo un po'. Statua, un'altra statua. E infine, scalpello. Azione del turno. Carica due pietre su una barca, o una pietra su una barca e una su un'altra. Quindi, in un certo senso, questa permette di fare l'azione di caricamento pietre in forma un po' più avanzata, no? Potremmo dire. Bene, quindi questa è la situazione all'inizio del terzo round. Vediamo un po' che barche useremo. Vedete? Useremo una barca da quattro posti, una barca da tre posti, una barca da due posti e un'altra barca da due posti. Bene, queste sono le barche a disposizione, signori, nel nostro terzo round, che ora comincerà e tocca appunto all'umino travestito da scheletro. Decidere il da farsi. Allora, ha una pietra già sulla sua slitta, no? Ma sì, decide di caricarla sulla barca più grande, qui. Adesso tocca alla mummia che ha ben due pietre sulla sua slitta. E la mummia... Vediamo un po' cosa vuole fare la mummia. Cosa vuole fare la mummia? Vabbè, la mummia farà un'azione attendista e metterà la sua pietra qui. Adesso l'unica azione che può fare all'umino travestito da scheletro è prendersi tre pietre dalla cava, perché non c'è nessuna barca che può essere mossa ancora. Tocca alla mummia. Allora, la mummia potrebbe mettere la sua pietra là, solo che poi farebbe muovere... No? Questo comporterebbe una mossa da parte. Forse non è molto intelligente. Forse farà così. Vediamo un po'. Perché se la mette in una di queste barche, poi sicuramente quell'altro la spedisce al mercato, no? Che è la roba un po' più inoffensiva in questa situazione. Quindi metterà la sua pietra qua. Vediamo cosa fa l'umino travestito da scheletro. Adesso ha tre pietre a disposizione l'umino travestito da scheletro. Però vedete, ha lo stesso dilemma che ha avuto prima la mummia. Cioè, dovunque metta la pietra a questo punto, quella barca potrà essere mossa. E c'è il rischio che la mummia la mandi semplicemente al mercato. Quindi sicuramente non metterà la sua pietra in una di queste due. Potrebbe... Ma non lo so, non saprei. Vediamo un po'. Vabbè, l'umino travestito da scheletro decide di mettere la sua pietra qui, su questa barca grande. Adesso tocca alla mummia che può muovere quella barca a destinazione. Mumble, mumble, mumble. È complicata qui la faccenda. Allora, cerchiamo un po' di vedere la situazione, per esempio, che si verrebbe a creare al tempio. Al tempio un blocco nero andrebbe là. Poi il blocco bianco andrebbe qua e il blocco nero andrebbe qua. Quindi a fine round avremo tre punti per lui, un punto per lei. Agli obelischi rimarrebbe, diciamo, questa situazione in cui il nero domina. Nella tomba, vediamo un po', la pietra nera andrebbe qua, quella bianca andrebbe qua e quella nera andrebbe qua. Sapete che in realtà forse andare alla tomba è una buona opzione, perché diventerebbe più grande, diciamo, il gruppo dei blocchi bianchi. Mentre i due blocchi neri non sarebbero adiacenti, si toccherebbero solo attraverso un angolo. Invece in piramide no, perché in piramide darebbe due, cinque punti. Però se se ne prenderebbe quattro lei, darebbe cinque punti a lui e se ne prenderebbe quattro lei. Al mercato, ma no, ma sapete che la mummia decide di fare questa cosa, di prendere questa barca, signori, e di mandarla alla tomba. Sì, 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 sì. Quindi succede questo. Vedete, questa pietra verrà posizionata qui, quest'altra viene posizionata qui, perché bisogna per forza scegliere questo ordine. Quest'altra viene posizionata qui, ok? Quindi vedete, a questo punto la situazione è di notevole vantaggio per il bianco, che ha un gruppo di tre, mentre il gruppo più grande che ha il nero è un gruppo di uno, d'accordo? Perché quelle due pietre non sono in realtà una di fianco all'altra, si toccano solo per un angolo, ok? Bene, adesso tocca all'omino travestito da scheletro. E cosa farà? Guardate che è difficile, perché ancora una volta mettendo la sua pietra su una barca, sapete cosa fa all'omino travestito da scheletro? Decide di prendere tre pietre e mettersele sulla sletta. Tiè. Così adesso cede il turno, cede il turno. Vedete, a volte ha senso, no? Semplicemente in un certo senso perdere un turno per non essere nella posizione di colui che deve sempre subire i movimenti delle barche decisi dall'altro, capite? Tocca alla mommia che a questo punto decide di prendersi anche lei tre pietre, però. Eh, quindi siamo appunto a capo. Adesso l'omino travestito da scheletro, veramente, credo non possa nemmeno scegliere di prendersi tre pietre, perché la sua slitta è completamente piena. Oppure può anche se non... Aspetta che questo è un punto interessante da approfondire. Fatemi prendere in mano il regolamento. Vediamo un po'. Allora, dov'è? Svolgimento della partita. Allora, prendere nuove pietre. Se ci sono già cinque... Eccola qua, vedete? Questo è quello che volevo sapere. Se ci sono già cinque pietre, dov'è? Nel tuo tassello stoccaggio o non ci sono più pietre nella cava, non puoi scegliere questa azione. Quindi anche volendo, non è che puoi scegliere l'azione solo per perdere il turno, no? E passare alla patata bollente, diciamo, all'altro giocatore. Deve per forza mettere una pietra su una barca. E vabbè, niente. Il suo piano è fallito, purtroppo. Il piano dell'omino travestito da scheletro è fallito. E... Boh... Sapete che non saprei... Forse conviene... Vediamo un po'. Vabbè, conviene andare qua. Conviene andare qua, perché almeno così il nostro destino è un po' condiviso, no? Tocca alla mummia. Allora, se la mummia manda questa... La... Mmm... Aspetta che forse mandarla al tempio non è una brutta idea. Mandarla alla tomba non è il massimo. Mandarla alla piramide è una pessima idea. Mandarla al mercato, beh, darebbe la prima scelta comunque a... a... a lei. Mmm... Potrebbe prendersi la sua terza statua, eh? Mmm... Ma si farà così la mummia. Manderà questa barca al mercato. Quindi prima scelta a lei e si prende un'altra statua. Seconda scelta, all'omino travestito da scheletro, che deve scegliere fra ottenere più punti a fine partita per i blocchi nella piramide. Non è una bella idea. Piazzare immediatamente una pietra nella tomba. Questa è un'ottima idea per lui, invece. Quindi sceglierà indubitabilmente questa, che va subito messa negli scarti e, signori, il nero mette immediatamente una pietra sulla tomba. Ecco, vedete, prima il bianco non aveva considerato questa opzione, no? Adesso siamo in parità, vedete, nella tomba, perché i gruppi sono entrambi di tre pietre. Bene, adesso tocca all'omino travestito da scheletro, no? Questa è una scelta che ha fatto lei, credo. Sapete che ho perso un po' il filo? È una scelta... ci vorrebbe un segnalino che determina chi sta giocando, va bene? Comunque credo tocchi all'omino... o tocca a lei? Porca miseria, non mi ricordo più chi stava giocando, ragazzi. Chi ha deciso di muovere la barca qua? L'ha deciso lui o l'ha deciso lei? Non mi ricordo. Devo fare una piccola pausa e controllare chi ha svolto questa azione. Scusate, piccolo stacco. Era stata la mummia, signori, a compiere quell'azione, quindi adesso tocca all'omino travestito da scheletro. Sapete cosa facciamo per evitare confusione? Usiamo questo segnalino per... questa è una pietra di un altro colore, vedete? Quindi per un terzo giocatore, no? È possibile usare pietre di questo colore. Quindi lo usiamo per... no, perché a volte si può fare confusione su chi è il giocatore attivo in quel momento. Quindi adesso tocca all'omino travestito da scheletro, che deve, vedete, mettere per favore... oddio, potrebbe... in questo caso potrebbe passare la patata bollente prendendo delle altre pietre dalla cava, ma no, dai, metterà una sua pietra sulla barca. Tocca alla mummia. Allora, a questo punto la mummia potrebbe mandare questo... vediamo un po'... dove potrebbe aver senso mandarlo. In realtà da nessuna parte, eh? In realtà ha molto più senso che la mummia carichi un'altra sua pietra qua. Perché adesso l'omino travestito da scheletro che vada... Beh no, vabbè, forse va agli obelischi... cioè, andando agli obelischi comunque non cambia niente. Andando al tempio darebbe un punto in più... vediamo un po'... vediamo un po'... però potrebbe anche decidere di non muovere la barca, ma si farà così, farà così. Metterà una sua pietra qua, qua. Molto bene. Adesso tocca alla mummia. Adesso la mummia ha una scelta un po' complicata davanti. Deve decidere se muovere quella o quella, o se mettere una sua pietra qua. Vediamo un po'... qual è la scelta migliore? Mumble, 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 mumble... Aspetta che se mette la sua pietra qua ha messo in gravissima difficoltà l'omino travestito da scheletro. Sapete perché? Perché adesso ci sono queste due barche e possono essere mosse entrambe. va bene? E dovunque... allora andare alla piramide è una pessima idea per lui, ma dovunque lui porti una barca, l'altra... lei la manderà alla piramide. No? Spero, spero sia... vedete in che situazione si è cacciato in questo modo il lomino travestito da scheletro? Vedete che questo gioco ha più profondità di quello che sembra, no? Ha più... no? Perché, vedete, quattro punti mettendo la pietra nella casella centrale della piramide ci ottengono quattro punti. E quindi andando... quindi ha fatto un po' un disastro il lomino travestito da scheletro. E adesso tra l'altro tocca a lui, eh? Sapete che quello mi manda ancora più in confusione, forse, la presenza di quel tassello. È veramente complicato in questo gioco riuscire a tenere traccia di chi è di turno. Comunque penso che adesso tocchi a lui, no? E vabbè, niente, qualunque scelta faccia, appunto, vabbè, andrà con una barca agli obelischi, d'accordo? Quindi la situazione agli obelischi rimane assolutamente identica a quella che era prima. Sapete che raggiungeremo un'altezza notevole con questi obelischi alla fine di questa partita. Molto bene, adesso tocca alla mummia e la mummia decide di andare alla piramide, ovviamente, perché andando alla piramide, allora, lui ottiene due punti, uno, due, ma lei ne ottiene quattro, signori. Quindi, uno, due, tre, quattro. E questa è la situazione alla fine del terzo round. Anzi, no, bisogna prima contare anche i tre punti da dare a lui. Uno, due, tre, con il tempio. Quindi alla fine siamo in una situazione abbastanza bilanciata, no? Questa era la fine del terzo round, rimettiamo le barche. Al loro posto e andiamo avanti con il quarto round, d'accordo? Allora, scartiamo anche queste due carte. Ecco qua. Rinnoviamole. Uno, due, tre e quattro. Guardate, abbiamo pescato una vela, che è una carta blu, quindi sostituisce l'azione del turno. Carica una pietra su una barca e conduci la barca in un luogo. Molto bella, ce n'è anche un'altra, vedete? Abbiamo un sarcofago che ci fa immediatamente piazzare una pietra dalla cava nella tomba, che è quella che ha usato prima, l'omino travestito da scheletro. Molto bene, è stata lei a condurre la barca ultima in porto, quindi tocca a lui cominciare e vediamo quali saranno le barche a disposizione nel nostro quarto round. Allora, una barca da tre, una barca da due, un'altra barca da due e una barca da uno. Molto bene. Cosa vuole fare, ragazzi, l'omino travestito da scheletro? Mumble, 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 mumble. Forse potrebbe metterla tranquillamente qui perché... Boh, no, perché poi quell'altra la manda al mercato. No, vabbè, si prende un posto nella barca più grande, così, il posto in testa, diciamo. Tocca alla mummia e la mummia cosa fa? Ma sì, decide di mettere il suo blocco qui. Adesso cosa fa l'omino travestito da scheletro? Aspetta, cosa farà? Invece di muovere la barca mette anche il suo terzo blocco qua. Adesso tocca alla mummia, quindi, decidere dove andare con quella barca. Allora, dove va la mummia con quella barca? Vediamo un po', facciamo un ragionamento serio. Non alla piramide perché otterrebbe 3, 2, 1, 4 punti a 2. Allora, non agli obelischi perché, vediamo un po', forse al tempio. Al tempio succederebbe 1, 1, 1, o forse anche al mercato, eh. O forse alla tomba, 1, 2, no, la tomba darebbe vantaggio a lui. È dura, eh. Ma sì, buttiamola al mercato, pensa la mummia. Quindi la prima scelta tocca a lui. E forse, come prima scelta, sceglierà di nuovo que... Forse no. Ma la sceglie per non fare la scegliere a lei, in realtà. Questa qua, che permette di prendere una pietra dalla cava e metterla... Ecco, sapevo che prima o poi avrei fatto questo danno. E metterla immediatamente... Ho battuto l'obelisco, signori. E metterla immediatamente, appunto, nella tomba, stavo dicendo. No? Quindi questa è la situazione. Adesso però deve prendersi una carta dal mercato, la mummia. Meglio la vela o meglio lo scalpello? Forse meglio la vela. Meglio la vela. La teniamo qui. Ricordiamoci di usarla. E poi tocca di nuovo a lui sceglierne una. E anche lui si prende una vela a questo punto. E dobbiamo ricordarci, appunto, di adoperarle. Molto bene. Tocca all'omino travestito da scheletro, che non ha neanche una pietra. Quindi deve per forza prendere dalla sua cava tre pietre. Molto bene. Adesso tocca a lei e non ha nessuna pietra neanche lei. Quindi due turni semplicemente per recuperare un po' di pietra da utilizzare. Tocca di nuovo all'omino travestito da scheletro, che deve decidere dove mettere. E adesso dovunque la metta. Dovunque la metta. Però sapete che vi dico? Che alla fine la mette qua. Perché adesso dovunque la mummia decida di mettere questa barca. Farà comunque ottenere dei vantaggi a lui. Meglio aumentare ancora di più. Allora, forse è meglio evitare di mandarla alla piramide. Perché farebbe fare subito tre punti. Però qui aumenterebbe. Dovunque la metta, la manda al te. Perché la mummia decide di mandare questa barca al tempio. Va bene? Così. Oddio, non so se ha fatto una scelta così intelligente. A parte che avrebbe anche potuto usare la sua vela. E vabbè, ormai è troppo tardi. Forse l'omino travestito da scheletro a questo punto utilizzerà la sua vela. Quindi carica una pietra su una barca e la muove immediatamente in un luogo. Ed è proprio quello che farà. Carica qui e muove immediatamente la sua barca alla piramide. E farà immediatamente tre punti, signori. Uno, due, tre. Il nero è passato in vantaggio. Adesso, signori, tocca alla mummia. Allora, anche lei potrebbe fare la vela a questo punto. Finirebbe già il round. No, però a questo punto deciderebbe. Ah, sapete che usando, andando agli obelischi farebbe pari agli obelischi, eh? Quindi sì, la mummia farà proprio questo. Utilizzerà la sua vela. Pietra su barca. Barca immediatamente condotta agli obelischi. Ta-da! E a questo punto agli obelischi abbiamo una situazione di parità, signori. E dopo toccherà al, 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 all'omino travestito da scheletro. Round molto rapido. Avete notato? Abbiamo già finito il quarto round, ok? A questo punto, vedete però, il nero ottiene quattro punti, eh ragazzi? Uno, due, tre, quattro. Quindi sta fruttando bene quel tempio. E forse la mummia dovrebbe in qualche modo intervenire, no? Su quel tempio per i round successivi. Molto bene, mettiamo via le barche. Mettiamo via le, eh, la carta rimasta al mercato. Prendiamo quattro nuove carte e le sistemiamo al mercato. E siamo arrivati, signori, al nostro penultimo round. Uh, è nel frattempo spuntata un'altra statua al mercato. Eh, questo potrebbe interessare, no? Ai nostri, ai nostri giocatori. Vediamo quali sono le barche che verranno coinvolte nel penultimo round, se ci riesco. Vediamo un po'. Eccole qua. Allora, una barca da quattro. Una barca da due. Un'altra barca da due. E una barca da uno. Molto bene. Signori, tocca all'omino travestito da scheletro. Hmm, cosa vuole fare della sua vita all'omino travestito da scheletro? Mumble! Potrebbe prendersi la barca più piccola, tanto metterebbe comunque un po' in mezzo a rogne la mummia. Hmm, vediamo un po'. Ma no, decide di prendersi invece il primo posto in questa barca più grande. Adesso, signori, tocca alla mummia. Allora, cosa vuole fare la mummia? Dove mette la sua... Potrebbe metterla qui, tanto questa bisogna averne almeno tre sopra per poterla muovere. Quindi la metterà qua. L'omino travestito da scheletro deve per forza prendere tre pietre dalla cava, perché non ne ha più e non c'è nessuna barca che può essere mossa. Allora, tocca alla mummia. La mummia invece potrebbe mettere la sua ultima pietra sulla barca. Poi però la farebbe muovere a... D'altro canto, però dovunque quella barca vada... Vediamo un po'. Beh, piuttosto che metterla comunque, perché se la mette in una di queste barche qua, comunque poi dà all'omino travestito da scheletro la possibilità di muoverla. Quindi la mette qua, ragazzi. Farà così. Tocca all'omino travestito da scheletro. Cosa vuole fare l'omino travestito da scheletro? Mumble, 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 mumble. Allora, deve trovare un modo per ottimizzare... Allora, gli obelischi sicuramente no. Aspetta che forse è una bella idea andare alla tomba con quella lì. Ragazzi, riuscirebbe a crearsi? Sì, assolutamente. Farà così l'omino travestito da scheletro. Andrà alla tomba. Perché, vedete, questa pietra va qua. E guardate che gruppo di pietre vicine ha creato. Quell'altra va qui. E quell'altra va qui. Quindi, vedete, non è che abbia fatto poi sto gran beneficio, no? Alla mummia. Molto bene. Adesso tocca proprio alla mummia, che non ha neanche una pietra, quindi spenderà il suo turno per prendersi delle pietre. Adesso tocca all'omino travestito da scheletro. Che vediamo un po'. Alla fine forse non deve temere più di tanto, no? Metterà la sua pietra qua. Non deve temere più di tanto, perché dovunque vada, alla fine... Adesso la mummia può muovere la barca, no? Quella barca con sopra la pietra di quell'altro. Però dovunque vada, alla fine gli date i vantaggi, eh? Forse il vantaggio meno vantaggioso è mandarlo al mercato. Quindi farà così la mummia. Manderà questa al mercato e l'omino travestito da scheletro si prende una statua. A questo punto con le statue la situazione è di parità. Adesso tocca all'omino travestito da scheletro. Adesso però, vedete, è esattamente la stessa situazione di prima e non c'è più il mercato come potenziale disinnescante, per così dire, della situazione per la mummia. Quindi forse, anziché muovere la barca, gli conviene alla mummia metterci sopra la sua pietra. Almeno limita un po' i danni, no? Sì, 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 conviene così, conviene così. Tocca all'omino travestito da scheletro, che a questo punto farà la sua scelta, no? E forse la sua scelta più intelligente è questa, andare alla piramide. Perché così lui ottiene due punti, guardate. Invece la mummia ne ottiene solamente uno. Ok? Quindi due punti al nero, un punto al bianco. Molto bene. Adesso, signori, tocca alla mummia, che farà così. E a questo punto ha l'omino travestito da scheletro, l'opzione di muovere l'ultima barca dove c'è il blocco della mummia. Dove lo manda? Meglio mandarla all'obelisco o meglio mandarla al tempio? Al tempio le regalerebbe un punto, però l'obelisco complicherebbe un po' la situazione perché passerebbe in vantaggio il bianco. No, preferisce mandarla al tempio. La manda al tempio e a questo punto? Ecco qua. È finito, signori, anche il quarto round. Siamo quasi alla fine della partita e dobbiamo assegnare i punti del tempio, che questa volta sono 3 per il nero, 1, 2, 3 e 1 per il bianco. Ciò che conta è quello che si vede dall'alto nel tempio, quindi è nettamente in vantaggio per il momento l'omino travestito da scheletro. Bene, signori, è il momento di... inizierà lui, perché la barca la mossa... aspettate, la mossa lui? Ma io, ragazzi, sto facendo un casino tremendo con i turni in questo gioco. Chi ha mosso l'ultima barca? La mossa lui? Non mi ricordo assolutamente, ma non mi metto a riguardare il filmato. Diciamo che la mossa lui, va bene? State attenti mentre giocate a chi sta facendo cosa, perché il fatto che uno possa muovere i blocchi dell'altro è una roba che ti confonde. Quindi diciamo che la mossa lui, la barca, verso... ma sì, la mossa lui, perché ha fatto tutto il ragionamento relativo agli obelischi, quindi la mossa lui, sì. Quindi dopo toccherà alla mummia a cominciare. Molto bene, ultimo round di gioco, signori, rimettiamo via le barche. Rimettiamo via le barche. Puliamo il mercato. Vediamo che altre carte escono al mercato per l'ultimo round. Abbiamo una decorazione obelischi, abbiamo una decorazione tomba, abbiamo una leva. Nel frattempo è diventato buio, non ho usato le luci, le luci, diciamo, artificiali per questo video. E non è stata una bella idea, perché c'è il sole che gioca a nascondino, come si suol dire. Quindi c'è qualche nuvola che gira. Va bene, vediamo che barche... penso ci vediate lo stesso, c'è una quantità di luce sufficiente. Tra l'altro su YouTube ogni tanto vedo di quei video che sembrano girati nelle cripte, quindi su questo aspetto non potete proprio lamentarvi riguardo ai miei. Allora, queste sono le barche usate, che useremo nell'ultimo round. Quindi una barca da quattro, una da tre, un'altra da tre e una da uno. Eccola qua. Molto bene, signori. Tocca alla mummia, che ha una bella pietra qui nella sua slitta. Cosa potrebbe fare con questa pietra? Ma sì, la metterà qui nella barca più grande. Tocca all'omino travestito da scheletro. Cosa fa all'omino travestito da scheletro? L'omino travestito da scheletro... Vediamo un po'. All'omino travestito da scheletro, alla fine, fa tanta differenza. Vediamo un po'. Fa tanta differenza finire al mercato. È grave se finisce al mercato? Ma no, forse no. Quindi, però certo sarebbe meglio finire da qualche altra parte, direte voi. Ma sì, la sua pietra la metterà qui. Tocca alla mummia, che non può fare altro se non prendersi tre pietre dalla cava. Tocca all'omino travestito da scheletro, che non può fare altro se non prendersi tre pietre dalla cava. Tocca di nuovo alla mummia, che a questo punto deve decidere il da farsi. Se mette un'altra pietra là, poi quella barca finisce al mercato, sicuro. Perché vediamo un po'. Farla finire qui... Farla finire qui non converrebbe a lui. Farla finire lì... No, non converrebbe tanto. Farla finire qui non converrebbe per nulla. Quindi forse è meglio... Forse è meglio... Ma sì, vabbè, farà così. Farà così e a questo punto lui, che aveva già quel cubo, quindi quel cubo mi sta creando ancora più confusione, ma vabbè, non importa, decide di muovere questa barca al mercato. D'accordo? Quindi, prima scelta alla mummia. Cosa vuole prendersi la mummia? Forse la mummia, vediamo un po'. Decorazione tempio, decorazione tomba, sono belle quelle carte. Quelle carte, per esempio, allora, vediamo un po', uno, due, tre, uno, due, cioè darebbe comunque tre punti a fine partita scegliendo una di quelle, a parte quella del tempio, dico. Vediamo un po'. Ma sì, si prenderà questa qui, la mummia, si prenderà questa carta. Adesso tocca all'omino, travestito da scheletro, quindi quale si prende? Che carta si prende del mercato? Vediamo un po'. A lui conviene prendere questa, relativa agli obelischi. E infine tocca di nuovo alla mummia. E quale si prende? Vediamo un po'. Quella lì, relativa al tempio, non è che faccia fare chissà cosa, eh. Le farebbe fare solamente un punto in questo momento. Può un punto, forse è meglio prendere la leva. Prenderà la leva, la mummia, va bene? Perfetto, signori. Adesso tocca, quindi, proprio a lei, proprio alla mummia, che potrebbe proprio usare la leva. Per mettere una pietra e portarla da qualche parte. Eh sì, assolutamente, assolutamente! Ah no, aspetta un attimo, conduci una barca. Ah no, ma non è quello! Io pensavo fosse quella di prima che permetteva di mettere la pietra e muovere la barca contemporaneamente. Invece questa qui no. Questa qui permette semplicemente di scegliere l'ordine in cui vengono sbarcate le pietre. Che disgrazia! Vediamo un po'. Che facciamo a questo punto? Eh, vabbè, niente, mettiamo una pietra qua. Tocca all'omino travestito da scheletro. Allora, vediamo un po'. Dove metterà questa pietra? Se la mette lì, poi la fa muovere a lei. E lei dove la può muovere? Vediamo un po'. Se la mette qui, sapete che è dura? È veramente dura, ragazzi. Vediamo un po'. Ma sì, la mette qua, la mette qua. Vediamo cosa succederà. Tocca alla mummia. Allora, la mummia, dunque, ha un'ultima pietra. Sì, anche qua è veramente problematico, eh. È veramente problematica la faccenda. Dovunque metta questa pietra, succede un disastro. Succede, vediamo un po'. Poi dà a lui la possibilità di... Vabbè, niente, la metterà qui. E a questo punto lui decide che il modo migliore per disinnescare questa cosa è mandare questa barca qui. E vabbè, così farà due punti in più lei e due punti in meno lui. Però almeno, insomma, adesso tocca a lei. E lei, purtroppo, deve prendersi tre pietre. Ecco qua. E adesso tocca a lui. E lui metterà una pietra. E... Vabbè, sta leva non serve proprio a niente, eh. Vediamo un po'. Ragazzi, sapete che... Sapete che gli conviene assolutamente fare così a lui, eh. Perché adesso lei ha una situazione molto problematica. Cioè, eh... Questa barca, dovunque vada, fa fare un sacco di punti a lui, eh. È un disastro. È un disastrissimo. Anche perché poi... Eh sì, si è messa in una brutta situazione la... 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 La mummia. Niente. Come può fare per disinnescare questa cosa? Vediamo un po'. Vediamo un po'. Forse l'esito peggiore per la mummia è mandare questa barca qua, alla piramide. Così facendo, allora, tre punti più due punti. Quindi fa ottenere cinque punti. Uno, due, tre, quattro, cinque, immediatamente. Allo meno travestito da scheletro. Eh, è un po' una disfatta per la mummia, eh, questa partita, mi sa. Adesso tocca a lui e guardate, lui mette questa pietra qua. E adesso lei praticamente deve scegliere e dovunque, qualunque cosa scelga, le conviene scegliere questo. Le conviene scegliere questo. Almeno là siamo in parità. La sapete che non so come si risolve la parità, dopo vediamo nel manuale. Eh, quindi questa pietra finisce, finisce qui. Signori, il gioco è finito. Pappabam! E adesso dobbiamo procedere però al calcolo finale dei punti. Allora, intanto calcoliamo i punti di fine round relativi al tempio, che questa volta sono tre per il bianco, uno, due, tre, e uno per il nero. Va bene? Adesso dobbiamo procedere a calcolare i punti di fine partita, ok? Allora, punti di fine partita degli obelischi. Siamo in parità, quindi signori, prendo in mano il mio bel manuale di giuoco per cercare di capire, eh, vediamo un po', piramidi, obelischi, allora, in caso di pareggio si sommano i punti relativi ai piazzamenti e si spartiscono equamente tra i giocatori alla pari. Ognuno dei giocatori alla pari ottiene questi punti arrotondati per difetto. Quindi a questo punto noi dobbiamo praticamente sommare dieci più uno, undici. Praticamente ognuno prende cinque punti, io la capisco in questo modo. Ognuno prende cinque punti, quindi cinque punti al nero, uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque punti al bianco, uno, due, tre, quattro, cinque. Ok? Tomba. Allora, attenzione, nella tomba il nero ha uno, due, tre, quattro, cinque, sei caselle adiacenti. Va bene? Quindi ottiene quindici punti più due, diciassette punti, signori. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici, sedici, diciassette. Mentre invece il bianco ha un gruppo da tre che vale sei punti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. E poi ha due gruppi da uno che valgono un punto. Uno, due. Ok? Quindi questi sono i monumenti, li abbiamo tutti, diciamo, abbiamo registrato il punteggio di tutti. Ok? Però adesso dobbiamo anche considerare le carte del mercato che abbiamo in nostro possesso. Per esempio, ognuno ha tre statue. Quindi da questo punto di vista ognuno fa altri sei punti. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Poi, attenzione, la mummia ha decorazione e tomba. Alla fine della partita ottiene un punto per ogni tre pietre, tu o di altri giocatori, nella tomba. Tre, sei, nove. Quindi la mummia ottiene altri tre punti. Uno, due, tre. Invece l'omino travestito da scheletro ha decorazione e obelischi. Un punto ogni tre pietre, tu o di altri giocatori, negli obelischi. E abbiamo otto pietre negli obelischi. Uno, due, tre, quattro, sì, otto pietre. Quindi tre, sei, solamente due punti. Va bene? Però, signori, ha nettamente vinto, vedete, l'omino travestito da scheletro. Va bene? Questa partita finisce con la mummia che è ancora a 37 punti e l'omino travestito da scheletro che è a 57 punti. Quindi un distacco veramente notevole. Bene, signori, questo è come funziona Imhotep. Bene, signori, questo era il nostro esempio di gioco di Imhotep, architetto dell'antico Egitto di Phil Walker Harding. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, mi raccomando, andate a vedervi anche l'altro nostro video dedicato a questo gioco. Il video con il nostro parere. E se volete sappiate che c'è anche una recensione scritta che potete leggere sul sito LamascheraRiposta.it Se vi piacciono i nostri video, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccate la campanella così da non perdere le notifiche. Mosè dalla Maschera Riposta vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo video. Grazie a tutti.